Cateno De Luca, il nuovo sindaco di Messina, ha sconfitto al ballottaggio il primario del centro neurolesi, Bonino Puleio, Dino Bramanti, sostenuto da uno schieramento che è andato da Forza Italia alla Lega fino a diventare bellissima di Nello Musumeci, mentre il deputato regionale eletto nell'Udc ed espressione del movimento Sicilia Vera è praticamente un indipendente con un'estrazione di centrodestra. De Luca ha ottenuto il 65,28% dei consensi con lo sfidante bloccato al 34,72%. A Ragusa ha vinto Giuseppe Cassì, candidato appoggiato da Fratelli d'Italia e tre liste civiche e sul quale sono confluiti alcuni voti del centrodestra con il 53,07% dei consensi, mentre il candidato grillino Antonio Tringali si è fermato al 46,93%. A Siracusa, primo cittadino, è stato eletto Francesco Italia, vicino al sindaco uscente, il renziano Giancarlo Garozzo, che al ballottaggio ha avuto in più i voti del PD, che in prima battuta erano andati su un altro candidato. Battuto, quindi, Ezechia Paolo Reale, candidato di centrodestra. Il dato finale regista il successo d'Italia con il 52,99%, mentre il Reale ha ottenuto il 47,01% dei consensi. Ad Acireale è eletto un sindaco 5 Stelle, Stefano Eli, che con il 56,73%, ha battuto il candidato di centrodestra, Michele Dirre, 43,27%. Ad Adrano il candidato civico, Angelo Dagate, è diventato sindaco con il 63,61% dei consensi, travolgendo lo sfidante del centrodestra, Aldo Di Primo, fermatosi al 36,39%. Piazza Armerina ha invece un sindaco di centrodestra, Nino Cammarata, eletto con il 54,41% dei consensi, grazie ai quali ha battuto il candidato civico, Mauro Di Carlo, fermatosi al 45,59%. Partinico, unico comune al voto nel Palermitano, eletto Maurizio De Luca, con il 65,04% dei consensi. Il candidato di centrodestra di estrazione diventerà bellissima, ha battuto Pietro Rao, candidato civico di estrazione centrosinistra, che si è fermato al 34,97%. A Comiso, alta vittoria del centrodestra con Maria Rita Schembari, con il 50,21%, sconfitto il candidato civico di sinistra, Filippo Spadaro, che ha ottenuto il 49,79% dei voti.